Tentato suicidio al Savoia, parla la psicologa che ha assistito i compagni dello studente, arrabbiati e scioccati per non aver capito la reazione del compagno al brutto voto. Ho ucciso Pierpaolo perché ero innamorato di lui, così Michael Alessandrini davanti al group di Pesaro, una nuova versione per il trentenne che ha detto di aver ucciso Pansieri perché lo aveva rifiutato, domani un anno dall'omicidio. Si sente male in casa, ore di apprezzione per l'assessore maceratese Silvano Iommi, ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Macerata. Morti sul lavoro, sulla mancanza di controlli, gli ispettori denunciano, molte aziende mai controllate, noi siamo in pochi, serve più personale. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione di Etg Marche. In apertura torniamo a parlare del tentato suicidio da parte di un giovane alunno del Savoia ben in casa, un ragazzo di 14 anni. In particolare ascoltiamo le parole della psicologa che ha assistito i compagni dello studente, ha detto di averli trovati arrabbiati e scioccati per non aver capito la reazione del compagno al brutto voto. Mi sembrava chiaro che da più fonti all'interno del contesto scolastico sia da parte degli adulti, quindi degli insegnanti o di chi era lì e dei ragazzini, mi sembrava chiaro che ciò che aveva scatenato questa reazione, ripeto scatenato, è stato appunto questo voto e questa nota. Il brutto voto c'è stato, così Giorgia Canizzaro, psicologa, esperta di emergenze, che si è ritrovata per puro caso al liceo scientifico Savoia di Ancona, proprio negli istanti immediatamente successivi ai terribili fatti di sabato, quando uno studente 14enne si è buttato dalla finestra del terzo piano durante la ricreazione. È stata lei, su richiesta della preside, a prendere da parte i ragazzi ma anche i docenti per cercare di capire insieme cosa fosse avvenuto e interpretare le proprie emozioni. Shock, disorganizzazione, molta ansia, alcuni la rabbia per non aver capito magari un malessere preesistente o una situazione di disagio di questo loro compagno e altri ancora avevano proprio delle reazioni di paura, di ansia. Mentre fortunatamente migliorano le condizioni del ragazzo che nonostante le molte fratture riportate sarebbe ora fuori pericolo, è tempo di riflessione, spiega la dottoressa Canizzaro e la soluzione oggi non è certo quella di negare l'esistenza di un eventuale brutto voto, tutt'altro. Il punto non è se questo voto è stato registrato oppure no, il punto è che al ragazzino è arrivata questa informazione, dopodiché come lui l'ha vissuta dipende da una sua fragilità. Ora dichiarare di non aver mai dato questo voto potrebbe generare degli effetti molto molto più gravi di quello che è successo. Il problema non è il due, il problema è mettere la sabbia o la polvere sotto il tappeto perché appunto qui non si tratta di puntare il dito contro nessuno ma di crescere, di fare una riflessione tutti insieme. A volte no, è meglio parlare piuttosto che mortificare. Sempre su questo tema ha parlato anche il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Riccardo Rossini, un gesto ha detto che ha lasciato sconvolta l'intera comunità scolastica e non solo, e poi ha ribadito i giovani sempre più fragili, si parla, dice, di una vera e propria emergenza sociale. Questa è effettivamente una tragedia ma è la punta dell'iceberg. Una vera tragedia, quella avvenuta sabato all'Istituto Savoia di Ancona, una tragedia che oggi più che mai deve far riflettere tutti, insegnanti e famiglie. Così Riccardo Rossini, presidente regionale dell'Associazione Nazionale Presidi, che parla di un fenomeno divenuto purtroppo una vera e propria emergenza sociale. Non può essere semplicemente un brutto voto a dover scatenare una cosa del genere, è chiaro. È appunto un disagio psicologico, una fragilità di fondo che deriva evidentemente dall'incapacità che hanno questi ragazzi di resistere alle frustrazioni, al successo. Io penso che ci sia una responsabilità collettiva. Sarebbe da affrontare questo argomento perché rappresenta un'emergenza sociale. Un brutto voto, spiega Rossini, può essere umiliante, ma c'è modo e modo di darlo. Occorre far capire al ragazzo che si tratta di una valutazione della prova e non della persona. E poi c'è anche da analizzare il comportamento delle famiglie. Deve essere abbastanza chiaro al ragazzo che io sto dando 4 alla sua prova e non a lui, non alla persona. La scuola non può essere quella di 30-40 anni fa perché le generazioni sono completamente cambiate. E a mio avviso anche le famiglie si devono interrogare. Impossibile che si pensi di doversi sostituire spesso al ragazzo nel cercare di risolvere i problemi allo stesso. Spesso le famiglie si sostituiscono al ragazzo nei momenti di difficoltà perché pensano di fare bene in buona fede, però in realtà stanno facendo il loro mare. Di fronte a un aumento costante di questi casi di fragilità dei nostri ragazzi, conclude Rossini, occorre adottare nuove strategie. Ad esempio nel suo istituto, l'Agrario di Pesaro, si sta sperimentando la scuola senza voti con grande soddisfazione di docenti, famiglie e soprattutto degli stessi ragazzi. Prima succedeva questo. Prendevi un voto negativo, vedevi la reazione del ragazzo che sbatteva magari il compito, non lo guardava neanche perché aveva sbagliato, cosa aveva sbagliato, cosa poteva fare, non lo guardava per niente. Ora invece, al contrario, tutti aprono il foglio della correzione, tutti cercano di capire dove aveva sbagliato. Restiamo sulla cronaca. Ho ucciso Pierpaolo perché ero innamorato di lui. E così, Michael Alessandrini davanti al Gup di Pesaro, una nuova versione dunque per il 31enne, che ha detto di aver ucciso l'amico Pansieri perché lo aveva rifiutato. Ho ucciso Pierpaolo perché ero innamorato di lui. E questa, la nuova versione data da Michael Alessandrini, di 31 anni, accusato dell'omicidio dell'amico Pierpaolo Pansieri, 27 anni, nell'arco dell'interrogatorio davanti al Gup di Pesaro. Dichiarazioni che stravolgono quanto precedentemente affermato, e cioè di aver colpito per ordine di Yahweh. In aula, il trentenne ha detto di aver pugnalato l'amico con 23 coltellate dopo che quest'ultimo aveva rifiutato un suo approccio nell'arco di una cena a casa sua in centro a Pesaro. Alessandrini è accusato di umicidio pluriaggravato da premeditazione, crudeltà e futili motivi. È stato un delitto passionale il concetto ribadito anche dagli avvocati difensori del 31enne, Carlo Taormino e Salvatore Asole. Questo significa che, a parere nostro, decadono le aggravanti. I legali hanno anche richiesto una nuova audizione dei periti per precisare gli aspetti patologici della personalità del 31enne, a cui è già stata riconosciuta una semi-infermità mentale, e hanno fatto nuovamente richiesta per poter procedere con il rito abbreviato, dopo il precedente parere negativo del Gup. Totalmente diversa, invece, l'idea dell'avvocato dei familiari della vittima, Fabio Anselmo, un racconto lucido che normalmente non si riscontra in soggetti con infermità mentale. Ha fatto dichiarazioni tese a smontare tutti gli aggravanti che gli sono contestati, ha sottolineato, offrendo una narrazione completamente diversa da quella che aveva dato in passato. Martedì saranno passati esattamente 12 mesi dalla sera di lunedì 20 febbraio e la famiglia, ricorderà Pierpaolo con una messa. Ore di apprezzione per l'assessore ai lavori pubblici del comune di Macerata, Silvano Iommi, che in mattinata accusato mentre era a casa un malore, Iommi è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Macerata. Al momento l'assessore è ricoverato in prognosi riservata ed è tenuto sotto costante osservazione dai sanitari. Ma restiamo sul nostro sito anche per un'altra notizia. Lo vediamo pesare un incidente tra due auto, una si ribalta. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina appunto per questo incidente avvenuto all'incrocio tra via Manare e via Menotti con due auto coinvolte di cui una appunto, dicevamo, si è ribaltata. Una persona è stata portata all'ospedale dal personale del 118 ma non sarebbe fortunatamente in gravi condizioni. E poi sempre dal nostro sito leggiamo anche un'altra notizia di Cronaca, un altro soccorso. Qui ci spostiamo ad Ascoli per un ragazzo in sella a una mountain bike che è caduto intorno alle 10.30 di questa mattina. Ha riportato un trauma sulla strada di montagna che conduce al colle San Giacomo ad Ascoli, appunto all'altezza del rifugio Mario Paci. Sul posto i vigili del fuoco per il recupero e un'ambulanza per il trasporto all'ospedale Mazzoni. Ma adesso cambiamo argomento, parliamo delle morti sul lavoro, in particolare sulla mancanza di controllo. Parlano gli ispettori che denunciano molte aziende mai controllate ma noi siamo in pochi. Serve più personale. La fatalità la escluderei, nel senso che tutto va ricondotto ad una ricerca di ridurre al massimo i costi delle attività. Nessuna fatalità nelle morti sul lavoro, ma solo violazioni delle regole. Violazioni di cui fanno le spese sempre e solo i lavoratori. Il caso di Firenze, dove nel cantiere della tragedia sembra lavorassero ben 30 imprese in subappalto, non è un episodio isolato. Questa riduzione dei costi poi va ad impattare sulle aziende che prestano attività all'interno del cantiere con una miriade di appalti e subappalti che poi, siccome non possono risparmiare su quello che è il costo del materiale e magari anche la progettazione, dove risparmiano? Risparmiano sul costo del lavoro e sulla sicurezza. Il problema è che per gli ispettori è sempre più difficile effettuare i controlli. In Italia sono circa 4.000 gli ispettori del lavoro. Un numero esiguo si è rapportato al numero delle imprese, 4 milioni e mezzo. E sul nostro territorio non va certo meglio, anzi. Noi abbiamo una carenza cronica di organico, di personale. Siamo solamente all'incirca sui 19 ispettori ordinari, di cui alcuni solamente in parte svolgono ispezioni perché in parte svolgono attività amministrativa interna. Abbiamo attualmente 9 ispettori tecnici, ma di questi 9, 6 sono di recente assunzione, quindi hanno appena terminato il periodo di formazione e stanno diventando operativi adesso. Su 40.000 imprese della provincia di Ancona nel 2023 gli ispettori ne hanno controllate 540. Si tratta di poco più dell'1%, un nulla insomma. E questo purtroppo in molte aziende alimenta le violazioni. Poi di quelle poche controllate il 63% non è risultato in regola. Su questo fatto della percentuale bassa di possibilità di incappare in un controllo, magari c'è chi ci marcia, perché magari ha un controllo uno ogni 10 anni, come ci sono aziende che invece non risultano mai controllate. Nelle Marche il 2023 ha fatto registrare un calo di 99 imprese attive nel settore calzaturiero. è il dato registrato da Infocamere Movi Imprese, reso noto da Asso Calzaturifici, accompagnato però da un saldo positivo di 134 addetti. Per quanto riguarda le ore di cassa integrazione guadagni autorizzate da IMS nel 2023, per le imprese marchigiane della filiera della pelle, si registra un calo del 16,5% rispetto al 2022. Su fronte dell'export nei primi nove mesi del 2023 si è registrato un aumento del 4,3% in valore sullo stesso periodo dell'anno precedente, tra calzature e componentistica. 12 telecamere dal ponte di Bettolelle fino al porto di Senigallia. È operativo il progetto promosso dall'amministrazione comunale per la videosorveglianza del fiume Misa in occasione delle piene, per cui è stato ottenuto un finanziamento da 50.000 euro. 12 telecamere non solo sul fiume Misa ma anche sui fossi, che sono state già piantate, quindi sono state già poste, vengono poste fuori dell'alveo, che ci permette praticamente di vedere le aste dove viene indicata l'altezza del fiume. La finalità è duplice, quella di avere un quadro immediato della situazione e soprattutto di non mettere a repentaglio, come purtroppo poteva accadere anche in passato, la vita dei volontari che spesso e volentieri in incolumità, che in quelle circostanze sono portate ad andare a vedere un po' la situazione e vedono a che punto è arrivata l'acqua avvicinandosi molto al fiume. Le prime installazioni sono state completate sul ponte di Bettolelle, ma si arriverà fino al porto di Senigallia, garantendo quindi alla sala operativa della protezione civile comunale sette o addirittura otto punti di visualizzazione lungo tutto il fiume Misa, oltre al fosso Sant'Angelo e quello del Cesano. Si tratta dell'attuazione del progetto, promosso dall'amministrazione comunale per la videosorveglianza del Misa in occasione delle piene e per cui è stato ottenuto un finanziamento da 50.000 euro. È un sistema di controllo in tempo reale che verrà integrato con una serie di pannelli che verranno distribuiti lungo tutta la città in cui si ranno degli allarmi visivi. Stiamo ragionando e cercando di vedere se saremo autorizzati su altri sistemi. Attualmente i sistemi sono mediante appunto dei messaggi telefonici, stiamo valutando il discorso delle sirene. Capitolo infrastrutture. Si attende entro la fine del mese l'avvio del cantiere per la sistemazione della spalla del ponte del Vallone, mentre il sindaco Olivetti rimane in attesa di conoscere eventuali novità sul progetto del nuovo ponte Garibaldi, strategico per l'intero, centro storico e non solo. Tutti e due i punti sono per noi estremamente importanti. Il ponte Garibaldi, noi cerchiamo di capire quali sono i problemi da un punto di vista tecnico. Ho avuto contatti con il Presidente della Regione, so che è stato contattato da ANAS. Il problema credo sia soprattutto l'altezza del ponte come dovrà essere costruito e come poi potrà planare nelle strade cittadine e immettersi a punto in un contesto urbano. Peraltro ho già richiesto, come più volte ho fatto, non solo sui mezzi stampa, di rivedere e ristudiare, magari di rifare quello che è il ponte del corso 2 giugno, detto Ponte degli Angeli, perché fu concepito in una certa maniera. Noi chiediamo che anche quello possa essere alzato, non con sistemi meccanici ma in modo definitivo, per cui ovviamente ci attendiamo anche un'attenzione e un ragionamento su quel tipo di ponte là. E adesso ci spostiamo a Marina di Montemarciano, dove sono partiti i lavori di difesa della costa. Inizieranno a fare la manutenzione dei pennelli per pericolare la spiaggia, portando degli scogli e quindi faranno il riaffiorimento dei pennelli. Questo è il primo step perché potranno lavorare solo fino al 31 di marzo. Poi dal primo aprile la regione Marche per via della balneazione ha impedito che si continuassi i lavori. Successivamente verrà fatto il ripascimento all'interno dei pennelli, quindi sarà un ripascimento protetto per questo tipo di spiaggia. E poi ci sarà il grosso ripascimento che si prolunga per altro chilometro e mezzo verso nord con la ghiaia che verrà presa lungo il fiume Sino. Momenti diversi di un intervento che ha un obiettivo finale unico, difendere il litorale di Marina di Montemarciano dalle mareggiate per una spiaggia più grande e accogliente. La consegna dei lavori è venuta giovedì 15 di febbraio. I primi scogli sono stati già posizionati in attesa di accelerare nelle operazioni. Rimane però per la stagione prossima estiva l'esposizione ancora rischiosa all'intempere del mare. Noi come comune avevamo chiesto che potessero iniziare i lavori il prima possibile per passare una stagione estiva in sicurezza. Poi dopo per problemi ambientali dovuti al prelevamento della ghiaia sul fiume Sino questi tempi si sono allungati, quindi comunque la manutenzione dei pennelli che va fatta adesso non pregiudica nessun rischio perché comunque sono di scoglia posizionati lì sopra. E' vero che per la stagione estiva vedremo se non ci saranno altre mareggiate quindi siamo sempre in balia della fortuna. Però comunque da settembre, ottobre dovrebbe iniziare questo grosso ripascimento che dovrebbe ricreare questi 70-80 metri di spiagge lungo il litorale della Marina di Montemarciano e quindi risolvere un annoso problema dell'erosione costiera. Montemarciano e Senigallia, comuni confinanti e quindi anche identici problemi di erosione delle proprie spiagge. Il piano di difesa della costa della regione ha previsto un tipo di intervento, i pennelli ma le due amministrazioni non disdegnerebbero un intervento unico con scogliere emerse per mettere al riparo una volta per tutte anche attività operatori e bagnanti. Noi come comune eravamo sin dall'inizio più favorevoli alla costruzione delle barriere rigide e delle scogliere. L'abbiamo sempre detto. Poi dopo il piano regionale di difesa della costa non ha mai avvallato questo tipo di progetto e quindi ci siamo adeguati agli studi dei progettisti. L'ideale sarebbe fare una scogliera da Montemarciano fino a Senigallia che poi tutto il litorale sarebbe coperto. Quindi è certo che fra comuni se potesse trovare un accordo sarebbe l'ideale. Esce il 7 marzo nelle sale cinematografiche Neve. Il film girato interamente nelle marche tra tre e location diffuse nell'entroterra affronta il tema del bullismo. È un film che a me tocca particolarmente perché nasce da un mio vissuto. Io sono nato e cresciuto in Africa da genitori missionari e quando sono tornato in Italia mi hanno iniziato a bullizzare in tanti perché mi dicevano brutto negro anche se sono biancuccio. Quindi questa ferita non pensavo mi restasse così dentro al cuore e durante la pandemia è venuta fuori questa storia e quindi ho voluto raccontare la storia di questa bambina Neve che insieme al suo docente di recitazione hanno potuto rifiorire insieme durante un percorso che faranno insieme. Esplora i legami umani e familiari. Il rapporto tra madre e figlia affronta temi di forte attualità come il bullismo e il cyberbullismo e soprattutto celebra l'amore che supera le differenze. Esce il 7 marzo nelle sale cinematografiche Neve. Il film è girato interamente nelle marche tra tre e location diffuse nell'entroterra Sefro, Sarnano, Macerata, Civitanova, Marche e Moresco. Le riprese, durate 20 giorni, hanno coinvolto una truppa di 38 persone, 10 attori e oltre 900 comparse. Uno sguardo sicuramente ai giovani, alle loro fragilità e affronta il tema del bullismo e del cyberbullismo avendo ottenuto tra l'altro anche il patrocino della polizia di Stato quindi un tema sicuramente importante che ci consente attraverso il linguaggio del cinema di arrivare il più possibile anche ai giovani. Girare nelle marche è bellissimo perché le marche hanno veramente tutto e abbiamo tutto quindi io spero che tantissime produzioni vengano nelle marche questo è il quinto film o il sesto se non sbaglio che giro nelle marche ma è quello che a me ad oggi è arrivato di più proprio perché parte proprio da un mio vissuto e quindi spero che i marchigiani ci aiuteranno, sosterranno questo film perché veramente la protagonista Azzurra Lupi però è un talento incredibile e è di Lido di Fermo quindi è una nostra marchigiana. È stato veramente bello, penso che questo film sia all'inizio o spero perlomeno che sia all'inizio di quello che potrebbe essere il mio percorso di recitazione quindi penso che sia stato semplicemente stupendo avere la possibilità di recitare in un film con dei gattori veri e quindi potermi aprire un po' al mondo della recitazione e scoprire come funziona un set dietro le quinte. E questa era la nostra ultima notizia io mi fermo qui ma vi ricordo che potete trovare tutte le news aggiornate attraverso il social, il portale e la app di ATV Marche vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di serata con i nostri programmi arrivederci Grazie